Imprenditoria e stilisti a Sassari, il titolo del convegno organizzato dall'associazione 50 e più, al quale hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Gavino Sini e prenditori del tessuto sassarese come Rinaldo Baggella, Paola Tangiano e Maria Conte, che con i loro abiti e gioielli hanno concluso la serata con una sfilata di moda. Sulla passerella anziani e giovani alunni del liceo linguistico Margherita di Castelvì di Sassari, un connubio tra esperienza, conoscenza e saggezza da trasferire ai ragazzi. Questo è lo scopo dell'associazione 50 e più, che ogni anno si impegna ad offrire attività sia di tipo ricreativo che culturale, con lo scopo principale di attenuare nell'anziano gli effetti dovuti al decadimento, ma anche alla solitudine e alla mancanza di impegni, principale causa dell'invecchiamento. Questo significa dare scopo alla vita dei non più giovani, dando loro la possibilità di aiutare i giovani e introdursi nella vita attiva, grazie ai consigli derivanti dalla loro esperienza.